fuori equilibrio Bosti che perde il pallone lo recupera Hunter fa con Teodovic ecco la palla di ritorno per il 32 che arriva ancora una volta fino in fondo al ferro palla molto ferma adesso per la Virtus attacca Markovic dietro la schiena per Hunter che si prende la tripla risponde Hunter sulla sirena segna anche questa Vince Hunter 2 su 2 anche lui attacca le spalle canestro contro Bosti colpo non c'è il pallo poi è rimasto pulisce tutto ancora Vince Hunter attivissimo grazie a tutti